Nel Terramano, dall'ottobre 2016, sono stati messi a segno 21 assalti a Bancomat, la maggior parte con esplosivo, 15 dei quali ai danni della Banca Popolare ex Tercas. Oggi una vasta operazione da parte dei carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di Teramo ha portato all'arresto di 9 persone nel Terramano e nel Foggiano, in esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo, Roberto Veneziano. Nei confronti di componenti di una banda responsabile di almeno 9 assalti ai Bancomat, con la cosiddetta tecnica della marmotta. Sono stati arrestati Massimo Furio, di Orta Nova, Gabriele De Simone, Giuseppe Pugliese, Eugenio Cinquepalmi, di Cerignola, Vincenzo Capone, di Stornara, Luigi De Simone, di Orta Nova, già detenuto nel carcere di Vasto, Pietro Intenza e Michele Intenza, entrambi di Tortoreto, e Vincenzo Serra, di Barberino del Mugello. Gli arresti sono scattati all'alba, contemporaneamente a Cerignola, nel Terramano. Quando è iniziata questa attività investigativa? L'attività inizia nel mese di luglio, è stata portata avanti fino a dicembre. Durante questa attività abbiamo raccolto elementi per ben 9 assalti ai sportelli Bancomat, di cui sei nella provincia e tre fuori provincia. Quindi abbiamo individuato questa associazione, un'associazione costituita prettamente da personale di origine foggiana, residente nel comune di Orta Nova, Cerignola e Foggia, che si appoggiava a dei basisti locali. Due basisti li avevamo qua nel territorio di Tortoreto, e un altro basista lo abbiamo individuato nel territorio di Barberino del Mugello, dove sono stati svolti due assalti a due Bancomat, uno tentato e uno riuscito. Uno abbastanza importante, con una refurtiva di 95 mila euro. Cosa aveste sequestrato? Abbiamo sequestrato due autovetture, alcuni artifici esplosivi, due in particolare comunemente denominati marmotta, che venivano inseriti all'interno dello sportello Bancomat, 20 chili di chiodi a tre punte, che venivano lanciati per assicurarsi la fuga in caso di inseguimento da parte delle forze dell'ordine, vari passamontagna e nella giornata odierna abbiamo anche sequestrato una pistola modello Beretta, calibro 9 corto, durante le attività di perquisizione. Grazie.